Comunque, questo è un inciso, perché lui in questo film, che era una storia di tipo fantascientifica, veneristica, fece una musica molto sperimentale, quasi, non so adesso, so citare chi sono gli esempi più lampanti, ma una musica fatta al computer, poco melodica, molto innovativa, che a me era piaciuta molto. Poi mi ricordo che anche quando abbiamo riparlato di questa musica, mi disse che era una musica un po' troppo sperimentale per il cinema, e quindi non mi sembra che l'arrivo. Era poco nel chiaro. Ma il film dove è finito? Esiste almeno? No, il film che io sappia non esiste più, perché esiste negli scantinati della propria Repubblica. Con Italia? Ma, presumo che esiste intero, non ho accesso. E dov'è? Materialmente da quest'opera? Talazzo di giustizia. Però io non ho accesso. E' un corpo di reato, il film, a cui non è che uno può andare via a prendere. E non puoi far causa o non ti interessa più? No, non ti interessa. Anche perché non avrebbe essuto. Non esiste un dimutino? No, perché ai tempi non c'era, fino al 69, non c'era, non c'era, non c'era, 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 c'era. No, perché come lo spieghi, molto più, devo dire, sicuramente avrà le musici, il film l'ho visto, l'hai visto? No, no, l'ho visto. E mi sono molto curioso di vederlo e di sentire. Dopodiché arrivi a Forza Italia, forse il film che ti ha fatto conoscere un po' di più, forse, Forza Italia, perché ha avuto un grande successo, anche un po' di scandalo. Ha creato i dibattiti, avevi come assistente Marco Tullio Giordano. Questo invece l'ho visto in Italia, è una star cremita. Un film che ha veramente creato i dibattiti. E lui come è entrato? Un film che non era una fiction, che non era una film assorgetto. Allora, questa tua domanda non la condivido, perché secondo me non era una, erano film di film. Cioè, era un film, cioè tu pensi che fosse un film documentario, perché era un film fatto con dei brani di recruttori, recruttori, sì, certo. Però, noi l'avevamo costruito con una vera e propria storia. Cioè, avevamo fatto un lavoro enorme negli archivi, tra l'altro, anche Marco Tullio Giordano. Un altro regista che mi aiutò molto, che poi monto il film, era Silvano Roscoe. Che fece una grande ricerca di materiali e trovò dei materiali straordinari, come ad esempio una famosa telefonata tra il Ministro del Lavoro di Alvola, con Alcatem e il Presidente di Consiglio Rumora. In cui dicevano delle cose pazzesche, perché L'HP non sapeva che questa telefonata era registrata. E noi l'abbiamo trovata negli archivi della Rari. E quando noi abbiamo fatto questo film, abbiamo tratto, sceneggiato da due giornalisti, che sono uno all'opposto dell'altro. Carlo Rossella, poi diventato molto filofiloscoliano, e Antonio Patellare, direttore del Fatto Cotidiano. Quando abbiamo scelgiato, abbiamo costruito un vero proprio, una storia. Poi siamo andati a cercare i materiali. Quindi è un film basato su dei materiali di archivio, però non è un film documentario, perché è un film in cui c'è una presa di posizione aggressiva su quello che era la democrazia cristiana.